La Regione è un po' in ritardo sull'attivazione di una serie di misure. Io mi auguro di fare da stimolo al governo Schifani e ai suoi assessori perché riescano a muoversi con maggiore sinergia tra assessorato al lavoro e assessorato alla formazione perché serve attivare tutte le misure, goal, formazione, attraverso Formez, attraverso gli enti locali che possano rimettere il lavoro al lavoro le persone che purtroppo lo hanno perso e formare invece giovani che non hanno avuto ancora una prospettiva. Una serie di misure che vengono molto stimolate dal governo Meloni che come sappiamo ha detto stop all'assistenzialismo sterile del reddito di cittadinanza ma ha attivato una serie di misure che servono per portare chi può farlo al lavoro. Ecco, la Regione siciliana in questo si deve innestare con lo scrupolo con grandi capacità di attrarre anche fondi europei ma anche con una tempistica che purtroppo con la burocrazia regionale al momento mal si concilia.